L'inamica è stata un'esperienza straordinaria, è stata un'idea del ministro Brunetta estemporanea, ricordo ancora quando ha avuto l'idea di istituire un contact center che cercasse di risolvere i problemi di tutti i cittadini e nel giro di pochissimo tempo il Formez, una professionalità straordinaria fuori dal comune, ha organizzato un contact center che credo sia il più grande d'Europa come dimensione di rapporti, di contatti giornalieri e con un grado di efficienza del tutto straordinario, le percentuali di risoluzione delle questioni che vengono sottoposte a linea amica da parte di tutti i cittadini sono altissime, è stata fatta una rilevazione a un anno dall'instaurazione di questo servizio che rivela come la soddisfazione di chi ha avuto contatti con l'inamica è straordinaria, molto vicina al 100% dei casi risolti. In particolare in questo evento di Forum PA l'inamica ha presentato una modalità del tutto innovativa di comunicazione tra cittadino e operatori che è questa immagine che è un elogramma con la quale si può dialogare e che rivela anche fisicamente una vicinanza con il cittadino che sfrutta questo canale multimediale appunto del tutto innovativo che colpisce molto, devo dire la verità, è un'iniziativa straordinaria.